Un totem della palla a mano italiana che espose il progetto della Torelli per mettere a disposizione la sua grande esperienza per i più piccoli. Settimio Massotti, cosa ha la spinta in questa scelta? Sì, è stata una proposta di questo progetto, mi ha affascinato anche perché diciamo che fino ad oggi a livello di allenatore ho avuto a che fare solo con attreti senior, professionisti, cioè un po' più questo progetto con questa scuola giovanile da Torelli un bel progetto di crescita per questi ragazzi mi ha entesiasmato anche perché è una sfida anche mi ricordo un po' come siamo nati noi nella nostra generazione, tanti giocatori terramani che hanno poi fatto anche la fortuna di molte squadre serie A della nazionale perché un tempo gli allenatori si dedicavano molto ai giovani creando degli atleti sia da un punto di vista tecnico che fisico e dunque ripercorre quella strada secondo me un bene sia per la città di Teramo per ricreare, cercare di ricreare nuovi campioni. Presidente, perché la scelta di puntare su un personaggio così importante per la pallamano italiana oltre che terramana come Settimio Massotti? C'è stato questo incontro delle nostre volontà nel senso di dire proviamo a mettere insieme delle esperienze come quelle grandissime che è Settimio Massotti con la nostra volontà di portare avanti un discorso di pallamano a Teramo che ultimamente abbiamo visto ha perso un po' di importanza e di valore a livello di gioco. Negli obiettivi magari più a lungo termine futuri c'è la prospettiva o la volontà anche di poi cimentarsi con la pallamano dei grandi, senior. Ovviamente noi affidiamo alle cure di Settimio Massotti quest'anno, il 2017-2018, un under 17 maschile che potrebbe rappresentare come appunto ipotizza lei la squadra del futuro che ci potrebbe dare la possibilità di accedere a campionati superiori. Ovviamente questo con un lavoro che andremo a fare, magari con l'ingresso di nuovi atleti che nel corso del tempo ci auguriamo si vogliono iscrivere alla nostra associazione per cui è un progetto che noi chiaramente accarezziamo. Ho visto che è una squadra giovanile dove c'è molto impegno da parte dei ragazzi anche dei precedenti dirigenti e avendo noi in programma un'espansione nel campo adriatico e della nostra attività abbiamo deciso a livello di società di sostenere gli sforzi della Torelli.